Un candidato che sia espressione del gruppo locale ci sarà sicuramente in vista della volata verso le prossime regionali. Lo ha assicurato il senatore Renziano Davide Faraone che in serata ha partecipato all'Assemblea d'Italia Viva. Proprio il senatore al tre di union tra il partito locale e i riferimenti nazionali ieri al suo arrivo in città ha spiegato tra le altre cose che la collocazione in vista delle urne del prossimo autunno non è ancora stata decisa. Io credo che lo spazio per i riformisti ci sarà anche in Sicilia e sapremo costruire una coalizione vincente. I renziani non escludono l'opzione di un fronte sul modello palermitano di Legalla che possa attirare le forze centriste moderate. I vertici del partito comunque vogliono aspettare anzitutto l'esito delle primarie progressiste. Nell'Assemblea di ieri Italia Viva ha rivendicato intanto le ragioni che hanno condotto a lasciare la giunta greco con le dimissioni dell'ex assessore Cristian Malluzzo che aveva una delle deleghe più delicate, quella all'ambiente e ai rifiuti. Nessun ripensamento, anzi, secondo il coordinatore provinciale Giuseppe Ventura. Ne siamo convinti perché oggi è la testimonianza di quello che dicevamo, cioè che la città è sporca, la città va ripulita. Io noto moltissimi turisti che vengono in città e non è un bel vedere vedere la città sporca. La città è sporca, va ripulita. Noi abbiamo ritenuto che ci fossero degli interventi straordinari da fare, cosa che non è stata comunque accolta dal sindaco e quindi noi siamo usciti. Dall'altro non è stata un'uscita improvvisa ma ci sono state una serie di incontri che hanno anticipato questa uscita perché per noi era fondamentale ripulire la città almeno nel periodo estivo e nell'estate in cui si inaugura la mostra di Ulisse. Lo stesso coordinatore Ventura ritorna però sull'assenza di un calendario di eventi per l'estate, magari correlato alla mostra di Ulisse che aprirà i battenti venerdì. Per quanto mi riguarda non accetto l'idea che sia solo la regione a occuparsi della mostra di Ulisse, è una cosa nostra, riguarda la nostra città, riguarda il nostro museo e seppur la regione farà la propria parte, io secondo me il sindaco dovrebbe provare a fare di suo altro, quindi provare a fare delle iniziative collaterali per dare più risalto possibile ad un avendo del genere. In vista delle prossime regionali intanto, già nelle prossime settimane si faranno i nomi dei candidati scelti per il progetto Renziano. Farone non esclude la presenza di un candidato gelese da scegliere tra i diversi dirigenti locali che potrebbero essere chiamati a dare un contributo. Io credo di sì, qua abbiamo un gruppo dirigente sveglio che sa fare politica, e quindi è naturale che emergano candidature che riescano a rafforzare il campo riformista anche in questa cittadina.